E buongiorno a tutti, buongiorno amiche e amici, buon mercoledì, video dalla macchina, stamattina siamo fuori per varie commissioni, però dobbiamo sempre fare questi nostri ragionamenti insieme sui casi di cui ci stiamo occupando. Quindi per quanto riguarda il caso di Pierina Paganelli registriamo un silenzio per il momento che non è uno stallo, ma è un silenzio che sicuramente precede una tempesta. Non bisogna avere fretta. Ecco, i tempi della giustizia abbiamo imparato che sono molto più lenti di quelli che sono, non so, i tempi televisivi oppure quello che sono le nostre aspettative. L'aspetto sul quale volevo oggi approfondire è che è l'incidente di Giuliano. Ecco, se ne è parlato poco, ogni tanto si dice si potrebbe essere collegato. È proprio su questa colleganza che volevo dire qualche cosa. Perché se noi partiamo dall'ottica del coinvolgimento di quelli del terzo piano e allora vediamo come gli elementi di collegamento ci potrebbero essere. E con ciò, come mi suggerisce un amico nei commenti, troverebbe anche spiegazione il numero eccessivo di coltellate. In festa è una anziana donna che per essere uccisa in sé non aveva bisogno di tante coltellate come se fosse, diciamo, una sicurezza che lei morisse e lei fosse morta. Quindi richiamando sempre il fatto di Giuliano per dire non si deve sbagliare perché quella volta si è sbagliato. è una suggestione, chiamiamola così. Ritornando a Giuliano, era il 7 di maggio, era il 7 di maggio dello scorso anno. Giuliano esce di casa in bici e dopo appena 300 metri viene colpito violentamente alla testa. Ora, questo colpo è stato estremamente violento, gli fracassa il cranio, ma è un impatto così preciso, diciamo, che non gli tocca il naso, la bici non ha nessun tipo di conseguenze. E quindi quando si dice potrebbe essere l'impatto con lo specchietto di un furgoncino, di un furgone, io credo che si dica qualcosa di inesatto perché a parte che questi furgoni o furgoncini hanno questi specchietti in materiale prevalentemente di plastica, quindi non poteva fare un danno del genere e poi i soccorritori, perlomeno tutti quelli che sono venuti dopo, non hanno trovato segni di collisione, pezzi. Ci dovevano stare dei pezzi e pezzettini, diciamo, di questo impatto, di questa plastica, non hanno trovato niente. Poi c'è anche il fatto che questo trauma così violento ha fatto in modo che Giuliano non ricordasse nulla, ecco, non potesse essere di aiuto per le indagini, per se stesso. E ciò certamente non aiuta nella ricostruzione. Però tutto porta a pensare che incidente non c'è stato che possa essere stato una persona che lo colpisce violentamente con un qualcosa che dovrebbe somigliare molto a una... avete presente una mazza da baseball? Ecco, una grossa mazza da baseball così violentamente data in testa. assomiglia proprio a quella. Quindi... E viene lasciato, quindi quel 7 maggio, questo Giuliano, in un lago di sangue, lì attesa. Forse magari viene colpito anche una seconda volta, ma non di più. Sono uno, massimo due colpi. E poi, se l'attentato è stato, poi costrui scappa via, perché stiamo parlando comunque di strada pubblica, quindi non poteva rischiare, insomma, di essere visto. Ora, chi? Ci si è sempre detto, chi poteva avercela tanto con Giuliano? Ma tanto, tanto. Cioè, nel senso di dire, lo ammazzo. E le indagini che sono state fatte, insomma, non hanno portato a niente. Non aveva nemici giurati, non aveva questioni di, non so, gioco d'azzardo, giochi particolari. E' emerso questo famoso debito col fisco di 7.000 euro che lui stava cominciando a pagare. Ma, con rispetto a parlare, non credo che il fisco italiano possa usare questi metodi per far pagare. Quindi, voglio dire, non c'entra proprio niente, assolutamente, questo debito. Non sono emersi altri giri particolari, nei quali questo Giuliano, che, insomma, sembra una persona con tutti i suoi difetti, che non ha dei giri particolari. E allora c'è da chiedersi, per arrivare a ciò, ecco, bisogna sempre pensare a questo famoso uomo nero venuto dal nulla, che fa qualcosa senza un criterio. Cioè, come per il caso di Pierina, si dice l'uomo venuto da fuori che lascia lì anche i soldi, la borsa con i soldi e va via. E quindi anche in questo caso si fa qualcosa di così di provevole per scappare via e basta. Quindi non è che si è preso nemmeno il portafogli che aveva nel pantalone, niente. Così, giusto per fare un attentato, per dare un'ammazzata di quel tenore, di quella specie e andare via. Cioè, si deve sempre immaginare che tutto dipenda dal nulla, che tutto venga dal nulla, che tutto venga da un pazzo senza alcun tipo di spiegazione? No. Quali problemi c'erano quel 7 di maggio? Sono problemi che riconducono, teoricamente, sempre lì, a via del ciclamino. Perché allora Manuela era, è un periodo che era andata via di casa, quindi non viveva più con il marito, che stava dal fratello Loris, che non riceveva più alcun aiuto economico, che praticamente si era già rotto i ponti con Pierina, che evidentemente già sapeva, aveva saputo della sua relazione qua e là. e quindi, e quindi già si parlava che magari Pierina cercava di portare adesso il figlio a un allontanamento da lei a livello proprio giuridico e quindi c'era già questa grande situazione. e per il fatto che il 7 maggio lei stessa dal fratello fa venire anche dei dubbi, dei dubbi su Loris, su Loris. Perché? Perché anche in questo caso qui Loris è l'alibi di Manuela e Manuela è l'alibi di Loris. Ora, i dubbi ci sono che possono ricondurre a questa situazione perché nel caso malaugurato che Giuliano avesse perso la vita in questo incidente attentato, diciamo così, Manuela all'improvviso si ritrovava alla legittima vedova, madre di sua figlia e figlia di Giuliano che era minorenne, era minorenne del minorenne che subentrava quindi direttamente nell'asse ereditario. Quindi ecco, la mostra di Giuliano avrebbe fatto in modo, in poche parole, che Giuliano non potesse divorziare, ad esempio, da Manuela. quindi questa volete pensare male, diciamo così. Quindi sarebbe bastata una motivazione del genere per fare questo? Mettiamoci però anche la storia con Luis che era iniziata, sicuramente era iniziata già precedentemente, o con chiunque altro perché si parlava, si vociferava, che avesse una storia con un'altra persona, non lo so, ma ovviamente si sarebbe messo a tacere tutto. Però, fortunatamente per Giuliano, così non è andata. Quindi lui è sopravvissuto, seppur con una lunghissima degenza, è stato in coma tanto tempo, anche se non ricorda niente, se non ricorda niente. E quando si riprende, proprio in prossimità del 3-4 ottobre, sta per tornare a casa. Mancano pochi giorni, i medici dicono lo dimettiamo da un momento all'altro. Ora, è proprio in quel momento, in quei giorni, viene eliminata Pierina. In quest'ottica, in quest'ottica, ci dobbiamo domandare che senso avrebbe avuto sempre in quest'ottica qui l'eliminazione di Pierina. Perché voi immaginate che in questo periodo di degenza le cose non è che erano migliorate, anzi, forse Pierina aveva anche dubitato che non fosse un incidente. Certamente la credine si era acquita fra le donne e non solo con Manuela. Si era acquito questo odio. Quindi, addirittura, al punto che molto probabilmente Pierina aveva parlato anche con i saggi della congregazione del testimone di Geova per fare in modo, per denunciare insomma questa situazione di allontanamento di fatto contando di prove, di testimonianze per cui questi saggi appunto dovevano proprio chiamare questo 4 ottobre, avevano questo colloquio che avrebbe portato molto probabilmente all'allontanamento di Manuela perché Pierina era una di quelle anziane del gruppo quindi credo avesse pure una voce in capitolo e quindi questo fatto di essere poi allontanata era, come abbiamo già detto altre volte, una sorta di allontanamento sociale oltre che, diciamo, un isolamento è una problematica anche di ordine economica perché poi là, chi è che lavorava? Nessuno. Quindi, e oltretutto il ritorno di Giuliano a casa e la mamma lo aspettava per potergli far fare quello che gli voleva far fare prima cioè allontanare Manuela per colpa da quella casa fare un divorzio addirittura per colpa quindi, ecco, fra virgolette rovinarla, ecco, rovinarla proprio letteralmente sia dal punto di vista sociale con i testimoni di Geova così che dal punto di vista economico era una situazione, onestamente non proprio tranquilla e quindi, volendo essere proprio razionali, logici e conseguenziali la morte di Pierino avrebbe risolto queste problematiche qua cioè se l'attribuiamo anche a un killer venuto da fuori questo killer, involontariamente avrebbe risolto anche queste problematiche in un colpo solo tutto queste gravissime problematiche perché poi Giuliano sarebbe tornato a casa come è tornato colpito da questo dolore della perdita della mamma e come legittimo erede in comunione di beni con Manuela e le cose sarebbero si sarebbero appianate perché poi tutto questo clamore mediatico è venuto dopo e questa mostra poteva pure passare così dopo pochi giorni c'è stato un pazzo che ha ucciso questa signora anziana noi non dobbiamo pensare a tutto quello che è successo dopo però le 29 coltellate sono significative perché esprimera anche una rabbia e un brancore forte ora la stranezza di questo caso quindi a parte la mediaticità che è assunto in maniera improvvista perché poi diciamo se noi la coltelliamo all'attentato di Giuliano che non era stato riportato da nessuno se non qualche trafiletto in cronaca locale non nessuno si aspettava questo ma in ordine alla responsabilità di questo omicidio certamente tutto riconduce insomma a questa situazione di Manuela ma la stessa Manuela certamente non avrebbe mai potuto lei fare da solo qualcosa di male mai e allora ecco che è sospetta questa grande solidarietà che si è creata per cui si capisce da lontano che con il fratello Loris ha un rapporto molto particolare quasi di simbiosi direi forse anche un po' anomale un po' eccessivo eccessivo come lo è anche un po' anomale lo stesso Loris come persona insomma io ho trovato sempre un po' strano anche questo suo questo suo look con con la bandana quella bandana permanente insomma perché la porta in ogni occasione penso che la porta addirittura anche in casa perché io capisco pure che se uno non ha non ha capelli possa mettere qualcosa perché non si senta a suo agio ma tenerla sempre e comunque in ogni occasione mi sembra un po' eccessivo ma questo diciamo è un'opinione personale perché non mi è mai capitato di vedere io ho tanti amici che sono calvi ma non è che costantemente hanno queste coperture ma comunque abbiamo questo rapporto di simbiosi con col fratello poi un po' più criptici sono le figure di Luis e di Veronica di Valeria scusate scusate il lapsus di Valeria Valeria chi è? Valeria è una figura veramente strana anche in questo caso si dice che sia un'amica di Manuela da 25 anni sia una sua amica quindi intima ma un'amica che diciamo con cui condivide tutto possibile possibile mai che non si sia accorta ad esempio della frequentazione del marito Luis con Manuela questo è un punto interrogativo e diciamo questa sua intimità con Manuela è anche nel condividere l'odio diciamo verso Pierino è vero che è emerso che ci siano stati battibecchi anche con Valeria perché Valeria imputava Pierino essendo proprio come confinanti come confinanti di casa e a volte Pierino specie nel periodo estivo portava a casa delle sue amiche parlavano fino a tarda ora e a lei dava fastidio perché doveva andare a dormire presto bisticci riguardo anche il pianerottolo lì dove Valeria allocava una sedia una pianta qualcosa che Pierino a Pierino dava fastidio che si muoveva cioè questi litigi proprio tipici da condominio ma mi dico sarebbe bastato questo per essere solidali in un delitto questa è una domanda che mi faccio bastava questo per essere complici di tutto ciò in nome di cosa di una vecchia amicizia ma comunque anche lui poi è proprio enigmatico perché ricordiamoci che lui è un ex soldato un ex soldato africano abile nell'uso dei coltelli attenzione è il sospettato numero uno a mio avviso per proprio questa azione ferata anche perché ci sono tanti punti oscuri a partire dal fatto che zoppicava poi non zoppicava è stato visto che non zoppicava dalle telecamere non ha consegnato gli indumenti che aveva quella sera una maglietta bianca a maniche coste che indossava quel pomeriggio non è stata più trovata questo è gravissimo perché si deve supposare è l'ora che si è stata buttata quindi però in tutto ciò ecco se lui fosse responsabile di questa azione omicidiare ma possibile mai che ci si possa sposcare per per cosa per perché lui amava manuela perché è stato soggiogato perché è stato plagiato da questa donna perché è stato pagato da questa donna possibile quanto duemila cinquemila ma ci sono soldi relativi che bastano per poter fare ciò quindi era davvero come dire così tanto motivato quindi sembra anche in questo caso come per Valeria anche per Luis un pochino eccessivo insomma questo loro coinvolgimento emozionale in un ipotetico delitto quindi il problema è però che forse loro se sono colpevoli hanno sottovalutato il fatto che questo caso diventasse di rilevanza nazionale perché 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 l'attentata Giuliano non era stata così e anche se fosse morto Giuliano nessuno avrebbe detto niente nessuno a livello nazionale avrebbe detto niente e anche per Pierina si si pensava come spesso succede a una delle delle tante persone morte magari assalite da un pazzo in un condominio che tenda di violentare questa povera donna le strappa le strappa la la gonna le toglie indumenti intomi la lascia lì accoltellata con così queste gambe divaricate in questa posizione così e se ne va magari dopo dopo due tre giorni sarebbe stato tutto dimenticato forse questa magari era una forma di follia che c'era nelle menti di chi ha fatto tutto ciò perché poi dopo che sarebbe passata la bufeta dei primi giorni sarebbe tornato questo Giuliano che non ricordava niente del suo cosiddetto incidente e che con la morte della mamma e in quelle condizioni ancora non non buone sarebbe stato probabilmente sempre più dipendente emotivamente e materialmente da Manuela forse era questo a pensare male diciamo un diciamo un progetto che si era fatto e che non è andato a buon fine proprio per la mediaticità nessuno poteva mai immaginare che la morte di una signora anziana sotto un garage di un condominio potesse essere un caso così dibattuto e così discusso e quindi questa mediaticità ha fatto in modo che questo delitto che sembra un delitto organizzato nei minimi particolari nei minimi spostamenti messaggi le foto l'incidente vero non vero la zoppia l'ascensore l'ascensore bloccata che si ferma al terzo piano questo delitto che sembra diciamo quasi un delitto studiato a tavolino un delitto perfetto ecco la grande mediaticità che ha messo a nudo punto per punto tutte le contraddizioni ha fatto in modo che diventasse un gran pasticcio del condominio di via del ciclamino a Rimini e per cui noi attendiamo le novità sempre da un momento all'altro quindi grazie dell'attenzione vi auguro un buon mercoledì a tutti quanti vi ringrazio sempre di questo successo enorme che mi tributate a me piace parlare così con voi di scambiare delle opinioni e trovo un piacevole riscontro in voi tutti grazie un abbraccio a tutti grazie